Ma è chiaro che ci siamo confrontati, la partita domenica scorsa che voleva vincere a tutti i costi purtroppo hai anche un avversario di fronte che ha venduto cara alla pelle, un avversario tosto, organizzato e disperato di punti come noi per cui questa cosa sicuramente non siamo riusciti nell'intento di portare a casa i tre punti però è chiaro che abbiamo l'obbligo adesso di andare avanti e incontriamo l'Andrea domani che è sicuramente una partita molto complicata perché incontriamo una squadra da grande blasone incontriamo una squadra di grandissima qualità e quindi sarà una partita difficile come dico sempre io come tutte quelle del Girone H ma ancora la difficoltà aumenta proprio per la qualità della Rosa Ma è chiaro che a questi livelli devi studiare l'avversario, noi lo facciamo attraverso i video devi studiare tutte le situazioni che possono permettere alla squadra appunto di arrivare preparata a questo incontro noi sotto questo aspetto ci arriviamo preparatissimi però come ho detto prima è chiaro che hai un avversario molto ma molto forte di fronte però dobbiamo vendere cara alla pelle perché abbiamo bisogno assolutamente di punti per l'obiettivo salvezza